Grazia Divina e Preghiera La preghiera deve venire spontaneamente. Quando si manifesta il bisogno, si manifesta anche la preghiera. Non dovresti cercare sempre di pregare. La preghiera deve venire spontaneamente. Solo queste preghiere verranno esaudite. Una preghiera fatta nel tuo cuore evoca una risposta da ogni parte del globo e tu potrai assistere a tanti miracoli. I miracoli non sono violazioni delle leggi naturali, seguono semplicemente leggi superiori. Shri Amma Bhagavan